benvenuti o bentornati sul canale delessia lux questo canale principalmente ora di unghie e quindi oggi andiamo a fare un refile vi ho lasciato qualche piccola foto di qualche altro mio video su questo canale sono tantissimi quindi andatelo a vedere sono divisi come sempre vi dico in playlist quindi c'è la playlist ricostruzione la playlist spacchettamento in base a quello che volete vedere potete avviare direttamente la playlist e andranno in sequenza tutti i miei video nel frattempo potete cucinare o fare altre cose e mi ascoltate o vedete spacchettamento che sono molto sempre molto utili qui andiamo a smontare un bellissimo lavoro di una mia collega che sono delle unghie a ballerina molto strette e andiamo a rifilarle e a fare una carinissima nail art qui utilizzeremo quasi tutti i prodotti nuovi quindi rimanete sintonizzate perché andiamo a testare e in questo caso stiamo utilizzando invece una punta raptor fascia rossa vi lascio sempre la fotina delle fasce e questa smonta veramente bene non lascia solchi e molto rapida state attenti sempre alla punta tagliata che quella può afferire e però ci velocizza tantissimo il lavoro tanto che la voglio riordinare poi vado a utilizzare sto provando questa tecnica senza spingere le cuticole vado direttamente con la punta a pesciolino e devo dire che mi velocizza un pochino perdono meno tempo le persone odiano diciamo il fatto di scostare le cuticole quindi sto cercando di trovare la mia tecnica per non farle infastidire e per fare comunque un bellissimo lavoro sulle cuticole quindi vado prima da un lato poi poi cambio i giri della fresa dall'altro lato e vado a fare l'altro lato mi raccomando non fate solo da un lato perché sembra che avete fatto bene invece sempre serve il reverse della fresa e ci aiuta tantissimo a aprire bene anche il canale laterale dell'unghia mi raccomando il ballo perché è molto importante quando poi andate a stendere sia il gel che il colore fateci caso e la maggior parte dei sollevamenti partono proprio dal dal lato ok anche qui ne vedete uno piccolino sul pollice vedete quella specie di bolla bianca e quello è un piccolo sollevamento lo andiamo a togliere definitivamente con il cilindretto abrasivo leggero mi raccomando questa è una 240 quindi prendetelo leggero perché ci andiamo sia opacizzare l'unghia che a togliere appunto quei piccolissimi sollevamenti che salteranno con questo cilindretto mi vado ad aggiustare la punta e il laterale perché comunque ho necessità che la struttura sia già quasi perfetta e mi ha chiesto di stringere un pochino logicamente ragazze quando andiamo a fare un refill su una forma così stringere è difficilissimo perché perdiamo il lato a e il lato b quindi dobbiamo stare molto molto attente e soprattutto essere molto esperte su queste lunghezze poi dopo che abbiamo appunto aggiustato un pochino la forma in alcune ho trovato un po più strette alcune ho trovato un po più larghe tipo il mignolo i due mignoli sono un pochino più larghi e quindi rimarranno più larghi non ho potuto fare niente comunque pulisco bene con la spazzolina e alcol isopropilico proprio per una cosa mia metto anche il nail prep ma potete anche non metterlo metto il primer non acido sapete che il primer acido lo utilizzo solo in determinate situazioni e poi vado ad utilizzare la base alfa di passione me lo sono messo in questo barattolino perché se avete seguito i miei spacchettamenti sapete che ho preso il barattolone quello grande e quindi è scomodo comunque sulla postazione questo barattolone perché la base alfa è liquidissima è proprio acqua e quindi se si rovesciasse tutto il barattolone non lo dico romaccio si lo dico mi roterebbe tantissimo scusate nel frattempo mi sono strozzata quindi continuo l'audio e niente quindi andiamo a stendere questa base alfa che appunto ho messo nel barattolino per non rischiare di perdermi 50 ml di prodotto e poi è pure più comoda sul tavolo insomma con un pennellino piccolo 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 quello dovrebbe essere un 2 che uso solo per le basi appunto base alfa in questo caso c'è solo quella in barattolo e il resto c'è tutto il pennellino proprio qui andiamo ad utilizzare un nuovo prodotto che è il cover di 100 colpi di lima che appunto è un gel molto resistente e serve per le lunghezze estreme è un tisso tropico mi sono trovata veramente bene volevo utilizzare l'ho anche acquistate le dual form ballerina però avendo queste unghie già una struttura quando le andavo ad appoggiare praticamente la punta non era abbastanza stretta per le dual form non so se mi sono spiegata e però avevamo questo problema quindi alla fine sono andata a fare un refill semplice solo diciamo rifacendo la parte della bombatura ripristinando la linearità dell'unghia e poi sono andata in lampa da 60 secondi il colore mi piace tantissimo poi sono andata a pulire nel giro cuticole diciamo l'eccesso di prodotto con questa punta di passione unghie mi piace ma è un nì perché comunque si sporca in continuazione mi piace tantissimo la forma mi piace la grana mi piace tutto però si sporca in continuazione proprio all'inizio della punta e questa cosa mi fa perdere tantissimo tempo perché devo andare a spegnere la fresa e pulire con la spazzolina tutta la parte iniziale che diventa bianca si impasta e non fresa più e quindi poi alla fine sono andata a prendere la mia raptor di fiducia questa ormai la conoscete e di shane mi sembra questa e sono andata a pulire bene il tutto mi alliscia tantissimo la superficie mi aiuta tantissimo nella fase di refill e mi aiuta anche nel giro cuticole come potete vedere ripasso di nuovo nel giro cuticole me lo pulisce molto bene proprio perché una punta tagliata dovete stare attente a non puntarla proprio nel giro cuticole e in modalità per dire 60 gradi queste cose qua dovete stare sempre piatti con diciamo l'andamento dell'unghia con questa stessa punta ci faccio anche la parte di sotto anche se era un po larghetta devo dire la verità avrei dovuto utilizzare una punta un po più stretta però ce l'abbiamo fatta lo stesso e mi è piaciuto tantissimo lavorare questa lunghezza di unghie sapete non la faccio quasi mai perché non me la chiedono ecco il problema quindi se qualcuno vuole questo tipo di lunghezza io sono a disposizione e sono secondo me bellissime sono venute in questo colore già naturale stupendo infatti andremo a fare una nail art molto veloce e molto anche abbastanza semplice da realizzare e niente dopo che abbiamo pulito il tutto vado a sistemare un pochino i laterali ma c'era veramente poco da da sistemare e vado a fare questa nail art sul sul mignolo andiamo a realizzare con un nero un semi permanente nero poi andiamo ad aggiungere un po di ho questo gel che non si vede in telecamera mi dispiace si vede il tappo però lì vedete il tappo eccolo è un gel praticamente semi trasparente leggermente biancastro si chiama glitter no come si chiama oro bianco scusate si chiama oro bianco a me piace tantissimo veramente e ha questi glitter tra il bianco e leggermente l'argento però è leggero come argento diciamo è il più leggero che ho e quindi sono andata a fare semplicemente delle strisce come facciamo sempre e al centro ho messo il lucido trasparente prende ho fatto nero questo glitter che comunque molto delicato sul trasparente ho messo anche tra il glitter e il trasparente un po di jelly nude quello il jelly gel stupendo il lucido poi di nuovo il glitter con il trasparente e poi di nuovo il nero e sono andata a prenderlo con questo pennellino piccolino si chiama petal e mi è piaciuto tantissimo l'effetto perché poi vedete quando vado con il pennellino a sporcarlo diciamo a muoverlo e mi rimane comunque molto naturale non rimane un effetto anche se lei lo voleva molto strong devo dire la verità e però vedete quando lo prelevate vi fa già le righe innanzitutto volevamo più che altro un effetto fumo una cosa così non è un effetto marmo questo anche se ci si può fare con la stessa tecnica l'effetto marmo e lei voleva più un effetto fumoso infatti dopo alla fine vedrete che nelle fotografie lei ha una sigaretta elettronica quella che può ottenere e fumare anche diciamo in luoghi chiusi quella che non contiene proprio nicotina e ci mettiamo a fare appunto delle foto e dei video un po' carini qui sto utilizzando lo stesso pennello per fare questo effetto calza e volevamo fare appunto questo effetto in realtà mi sembra che dopo invece ci siamo messi i glitter vedete com'è questo gel glitter oro bianco? è molto delicato diciamo delicatissimo volevamo fare questo effetto glitterato ma poi mi ha detto voleva una cosa un po' più strong ma comunque può essere un'idea questa di mettere un glitter fino fino sotto al effetto zucchero con un glitter argento appunto che riprende il colore che abbiamo utilizzato per non rischiare che ci siano delle visioni soprattutto dei punti dove si vede diciamo il cover ma soprattutto ci aiuta per dire se abbiamo un colore più trasparente e una punta lunga a non far vedere sotto magari le trasparenze ecco mettere prima un glitter poi andare in lampada e poi fare l'effetto zucchero mi è piaciuto tantissimo questo effetto zucchero ho miscelato, vi devo dire la verità come al solito mio ho miscelato dei glitter diciamo aurora boreale con un glitter argento perché era un po' troppo forte forse era un glitter che mi aveva mandato passione oppure l'ho comprato non mi ricordo e non mi faceva impazzire diciamo tutto argento e quindi ci ho messo un po' di glitter aurora boreale qui siamo andati a fare delle venature sul bronzo dorato è un oro molto caldo questo che sto utilizzando e gli ha dato quel tocco in più questa della Bonpretti anche il pennello mi sembra e vado a fare proprio dei richiami dove ho praticamente necessità di far risaltare ancora di più la venatura insomma ci piace, ci è piaciuto tantissimo sia lavorare appunto con queste lunghezze perché ti puoi sbizzarire in maniera diversa sia fare questo tipo di night art se vi piace questo video come sempre aiutatemi a sostenermi su questo canale se riusciamo poi a fare anche le direttine su Instagram e TikTok sono molto contenta tornerò più presente ve lo prometto nei prossimi mesi quando diciamo avrò più tempo per me e niente quindi se volete lasciatemi un like se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale così vi arrivano le notifiche di tutto quello che posto sia shorts che video insomma integrali tutorial come questo qui sto utilizzando anche il lucido era la prima volta che utilizzavo sia il cover che il lucido di 100 colpi di lima e i prodotti mi sono piaciuti tantissimo quindi come feedback il mio su questi prodotti è positivo andiamo a mettere l'olietto come sempre ci piace soprattutto sull'effetto zucchero stiamo attenti a non andare oltre sui glitter l'ho rivista poi dopo forse quattro settimane poi ho avuto un imprevisto che non è potuta più tornare ed erano ancora perfette spero che prima o poi torni a farsi le unghiette da me un bacione io vi ringrazio per aver visto tutto il video come vi dico sempre commentate qua sotto ditemi cosa ne pensate se avreste fatto qualche passaggio in maniera diversa qui col fumo si vede molto molto meglio anche da nell'art e niente vi mando un bacione ciao da Alessia Lux ciao vi lascio un po' di video che scorrono come sempre vieni ancora qua sai che non mi stancherò di stringerti più forte ancora a me che non mi stancherò